Benvenuti a meteogiuliaci.it. Dopodomani, domenica 17 marzo, arriva sull'Italia la perturbazione numero 8, la quale ancora porterà tempo invernale almeno sul nord Italia, perché sul nord Italia almeno al mattino avremo nevicate sulle Alpi centro-occidentali fino al fondo valle e nevicate persino su tutto il Piemonte in pianura. Poi nel pomeriggio le temperature tenderanno a rialzarsi ovunque, anche sul nord Italia per effetto di venti di scirocco che già dal mattino soffieranno su tutta la penisola, le nevicate ancora le avremo, sì sulle Alpi però a quote medio-alte e resisteranno nevicate in pianura limitatamente alcune esse. Sempre domenica piogge su tutto il centro-nord, solo nuvole al sud e nuvole anche sulla Sardegna, quindi una situazione poco invernale potremmo dire al centro-sud e sulle isole maggiori. Bene, detto questo andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale, vedete la perturbazione numero 8 che ricopre tutta l'Italia e attenzione è da seguire perché nella giornata di lunedì darà luogo a piogge di forte intensità soprattutto sul nord Italia e probabilmente anche sulla Liguria, quindi è una situazione da tenere sotto controllo. Bene, andiamo a vedere le previsioni, appunto questa per la mattinata di domenica, vedete il sereno su gran parte del sud, un po' di nuvole sulla Sicilia, piogge sulla Sardegna, piogge sulla Liguria, le nevicate su tutto l'arco alpino fino a Fondovalle sulle Alpi centro-occidentali, le nevicate anche in pianura sul Piemonte, le piogge sulla Liguria. Bene, andiamo a vedere la situazione del pomeriggio, piogge su quasi tutto il nord eccetto le Venezie, piogge sulle regioni centrali Tireni, che è Toscana, Umbria, Lazio, non ci sono più piogge sulla Sardegna, molte nuvole sulle regioni del medio-basso Adriatico al sud, ecco le nevicate resistono in pianura solo sul Piemonte, mentre sulle Alpi la quota delle nevicate si è alzata, tant'è che sulle Alpi centro-orientali siamo a quote medio-alte. Andiamo a vedere a questo punto le temperature previste, sempre per la giornata di domenica, bene, valori sotto a 10 gradi solo sul nord Italia, valori superiori al centro-sud perché i venti di Scirocco hanno iniziato a far sentire il loro effetto e quindi le temperature si stanno rialzando a partire appunto dalle regioni centro-meridionali. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno!